Ragazzi, ciao, bentornati nel canale su Sekiro. Allora, continuiamo, abbiamo due cose da fare, bisogna decidere cosa fare. Allora, intanto miglioriamo, scusate, acquisiamo qualche abilità. Allora, cosa ci interessa? Allora, questo non particolarmente. Questo invece è molto utile, quindi prenderemo sicuramente questo. Anche attacco col rampino non è male. Allora, poi anche questo qua è molto utile. Questo non ricordo cosa fa. Dove ho preso uno strumento nella Fiat Attack? Ah, ok, sì, sì, sì. Ho capito cos'è. Possiamo prenderli solo uno di due. È un peccato, allora. Diviazione a mezz'aria. Possiamo fare i perri a mezz'aria. Allora, io penso che vorrò prendere per ora, facciamo, strumento prostetico a mezz'aria e attacco col rampino. Per ora è abbastanza buono. E poi cominceremo a fare anche questi qua, che sono proprio delle abilità d'attacco. Va bene, allora. L'episodio scluso è stato un po' lungo. Siamo sulla mezz'ora abbondante, purtroppo. Ma, vabbè, abbiamo completato un po' di cose. Allora, abbiamo due cose che possiamo fare. La falena, che ho un po' di paura. Vabbè, andiamo a fare la falena. Mi fa un po' paura, ragazzi, quel boss. Non so come mai. Non è un boss complicato. Basta fare un po' di schivate, attacchi in schivata. Si risolve abbastanza semplicemente. Questo qui è quello che vi facevo vedere. Ecco, questo serve a coprire le distanze dall'avversario. Soprattutto se ha un recupero abbastanza rapido. È davvero un'ottima abilità. Io la prendo appena posso, normalmente. Anche se preferisco prima ottenere quella che costa 5. Che ci fa recuperare vita i colpi critici. Inuzke, nel ricordo, però ci dà... Spostiamo il tatami. Inuzke ci dà... Vabbè, avete capito? Ci dà alzame della percezione che noi ne abbiamo due, se non sbaglio. Noi sei. Sì, sei ne abbiamo, re. E ci permette, appunto, di eliminare le illusioni che la falena crea nella seconda fase. Questo qui è un trailer... Vabbè, ragazzi, io ve lo salto. Ehm... 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 Ecco, avete visto perché penso che sia utile quella cosa là? Sbagliato il Perry, purtroppo. Allora, la prima fase è andata molto, molto bene. Adesso lei fa le presenze. La cosa che mi rompe più le scatole sono... I danni che creano le presenze quando esplodono, diciamo. Perditi nelle mie cose. Dai, falle. Fai. Per fortuna è abbastanza veloce. No, 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 no. Stavo per fare una cagata, ragazzi. Cazzo. Mi ha interrotto. Allora, l'ho un po' sprecato, in realtà. Eh. Ma... Noioso, noioso. Si è già messo a fare di nuovo le... Le maledette là. Ehm... Scomparse tutte molto bene. Ok, io non credo che lo farà di nuovo. Adesso. Dai. Vai. No, dov'è? Dai. Ehm... Vorrebbe essere morta, credo. Ok. Vabbè, vabbè, dai. Dai, dai. Non è andata malissimo. Ho usato due fiasche. Ehm... È stato buono aver usato i semi della percezione. Alla fine ho usato i tre, mi pare. Quindi va benissimo. Alla fine ci usano qua, quindi... Potete ottenerne quante volete. Si seccava. Vabbè, avete visto i potenziamenti che abbiamo ottenuto. Ci hanno promesso comunque di romperle la postura velocemente. Le siamo stati molto addosso. Anche grazie proprio... Ehm... A quella... A quell'abilità abbiamo sbloccato. Che ci permette di lanciare lo shuriken e subito fare un colpo. Ok, abbiamo seccato la falina. È andata abbastanza bene. La prima fase l'abbiamo fatta no damage, tranquillamente. Abbiamo pizzato un sacco di perri. Quando comincia ad attaccare, ragazzi, spammate i perri. Basta capire più o meno la sequenza. E via. Ok. Sì, sì. Gli diamo un po' di informazioni. Vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Magari potrebbe anche essere interessante potenziare. Vediamo. Serve magari un po' più interessante l'ascia. Ma non abbiamo i materiali, anche se in realtà, ragazzi, i materiali li abbiamo. Perché abbiamo un vendor che ci permette... Intanto lei, vediamo se ci dà quella cosa. Non abbiamo semi di zucca, no. Abbiamo abbastanza un buon potenziamento sul personaggio attualmente. Eccoci qua. Ah, eccoci, ho un semi di zucco per 2000. Io ci arrivo a 2000, tranquillamente. Guarda. 1000 e 3. Proprio. Così. Allora, potenziamenti li facciamo un altro momento. Non ci interessa. Abbiamo un potenziamento qua. La nota dalla subimare, pagoda, ma in realtà non sono assolutamente necessari quelli. L'aiuto di vino credo sia ancora al 30%. Sì. Credo siamo morti una volta. O due, forse. Finora. Poca roba, poca roba. Te. Sì, ok. Abbiamo già... 6 utilizzi. 6 utilizzi è buono. Insomma, abbiamo ottenuto, se non sbaglio, tutti quelli che... che dovevamo ottenere finora. Va bene, allora. Abbiamo finito il ricordo. E... Scusate, adesso io ho un dubbio incredibile. Se per caso c'era qualche oggetto da prendere nell'arena della Talena. Non mi pare. Anche perché sarebbe abbastanza stupida come cosa. Ok, vediamo un secondo. Te. Sei stanco proprio di fare... Così. I Nutsche non credo ci dirà nulla. No, infatti non ci dice niente di interessante. Starete sicuramente notando che mi dimentico spesso e volentieri di... prendere i potenziamenti... di prendere i soldi che rilasciano i nemici. Infatti non c'è. Caspio. Però abbiamo sbloccato l'idolo. Che suppongo di dimenticarmelo sempre, quando c'è. Allora. Ecco qua. Prendiamo anche... Fendente Corvino. Che questo sarebbe... No, ragazzi. Non prendiamo per ora. Aspettiamo un po'. Aspettiamo un po'. Allora, a Castello di Ascina andiamo... Facciamo una roba un po' toccata e fuga. Andiamo qui. Comunque utilizziamo questo idolo. Vediamo qualche pezzetto l'ho rilasciato qua e là, che magari ci siamo scordati di tirare su. Lì c'è il kamikaze, va bene. L'abbiamo preso l'oggetto. Ok, maledizione. L'abbiamo preso l'oggettino. Qua mi pareva non ce ne fossero. Vero? No. Ok, allora, sapete cosa possiamo fare? Perché si può fare una cosa da qua, in realtà. Se noi da qua scendiamo giù qui e ci facciamo un bagnetto, possiamo sbloccare il falò. Si può anche sbloccare tranquillamente scendendo dai tetti dall'altra parte. Ma questo è qui, diciamo, lo potete fare prima se lo fate da qua. Eccoci qua. Qui chiaramente non possiamo aprire la porta perché si aprirebbe dall'interno, scendendo dall'interno del palazzo. Ok, c'è un simpi. Vieni qua. Ok. Quanto devi romperci le scatole ancora? Eh, che esecuzione eterna. Non voleva morire lui. Li vedete, c'è un idolo. Sentiamo già questa conversazione e uccidiamo questi due nemici, tanto che siamo qui. Anzi, sblocchiamo prima l'idolo, tanto bisogna farlo prima o dopo. Questa qui è un'area che ci fa cedere alla forra. In realtà questa qua proprio sotto di me serve semplicemente per un mercante e serve a fine gioco. Noi faremo il finale più completo, ovviamente, quello buono per intenderci. Mi piacerebbe provare a fare il finale purificazione, ma in realtà lo stavo facendo con un'altra partita. Dato che ci siamo, lo rapuliamo anche qua un pochino. Lui speravo... Speravo di ucciderlo furtivo. Complimenti. Sì. Mori, muori, muori veloce, per favore. Pardon? Eh, vieni qua. Ok. Facciamo un po' di robe così, allora oggi secchiamo Falens. Ah no, non dirmi che mi ha visto lui. E invece mi ha visto lui. Era ovvio proprio. Questo chi, ragazzi, è di un palloso unico che ti scopre a tutti quanti gli altri nemici. No, non metterti sul bordino, ti prego. Ma qua c'è un cannoniere. Quaggiù ce ne sta un altro che va seccato. In teoria dopo abbiamo finito i nemici. Forse ce n'è uno. Un altro solo. Sì, ok. Ma guarda, là... Ma sei proprio antipatico. Non si può vedere l'animazione se sto prendendo fuoco, eh. Ti prego. Ah, basta! Farmi cadere! Rompi! Sì, niente. Ecco qua. Abbiamo usato l'abilità del rampino. E vi dicevo. Ragazzi, quanto mi ha fatto penare sto nemico. Ho detto penare in maniera troppo forte. Mi sa che muori il microfono oggi. Eh, zizzi, cazzo. Hoppe l'animo giù. Qua c'era un oggettino. Sì. Qua a fine gioco compare un ponte. Ah, non ho preso ancora quell'oggetto? Serio. E ci ricollega la parte iniziale. È una gran figata. Proprio una... Molto Dark Souls. Questa cosa qua, ovviamente. La mente dietro al gioco è sempre quella. È anche abbastanza logico. Allora, l'ulgetto... L'ulgetto. Laggiù. No, l'ulgetto. Laggiù. Il mio cervello non funziona bene. Eccolo qua, il tasso nero. Sì, tasso a testa nera, ecco. E ci dà la fortezza di ferro. Che in realtà potremmo anche ottenere gratuitamente. Però anche il colpo mortale antisalto che io non so usare. Quindi chi è? Allora, questo qui se non lo prendiamo e lui muore. Perché alla fine del gioco lui è morto. Lo possiamo comunque ottenere nella cassetta. Però mi pare ha molti più soldini, se non sbaglio. E fortezza di ferro ce lo dà invece gratuitamente quando torniamo. Quindi in realtà io farei proprio questa cosa qui. Prenderei tanto, ragazzi. I soldi se no non si usano mai. Allora. Colpo mortale antisalto. E poi quando morirai ci darai il resto. Visto come stiamo lucrando sulle persone. Beh, bello, bello. Va bene, dai. In realtà non andiamo subito nella zona della forra. Anche perché volevo proseguire nel castello. Sbloccare tutti quei pallosissimi dialoghi che bisogna fare con curo. Abbiamo 5 minuti più o meno. Avrei preferito farlo più corto. Ma vabbè, mi rendo conto che 20 minuti per questi video non sono tanti. Andiamo all'anticamera. Vorrei almeno arrivare al miniboss. Prima di Genichiro. Lo so che non vi sto dando per niente la sensazione di gameplay, dato che... È un continuo spoiler di cose. Questi nemici si possono fare praticamente tutti stealth. E conviene. In realtà sono anche molto divertenti da combattere. Quindi conviene ma fino a un certo punto. Non abbiamo sicuramente... Sì, ne abbiamo due. La vecchia. Questa qui è un'altra che allerta tutti i nemici. Quindi assicuratevi di ammazzarla così. Lui anche. Adesso ci sono un paio di nemici qua. Uno va ucciso per forza. A meno che non abbiate il njitsu, il fumo e il sangue. Vi consiglio di cedere questo che ho ucciso io adesso. Proprio quello più vicino, tra l'altro. Perché è quello un po' più palloso, diciamo. Ecco qua. Questi qua con qualche Perry e qualche Mikiri vanno giù facilmente. Adesso qua se non sbaglio abbiamo un altro grano di rosario. Questa che è una scorciato a Yoshinobi. Abbiamo un borsello pesante qua. Ah, non l'ha preso. È un borsello leggero. Mi sono 600 d'acciaio semplicemente così. Abbiamo recuperato metà di quelli che abbiamo usato prima. Tanto meglio. E un grano di rosario. Molto bene. Ritorniamo indietro. E saliamo su. Oppela. Oggettino qui. E che oggettino, ragazzi? È un oggettino. Allora, io se fossi voi ucciderei prima lei. È vero che... È quella meno temibile in realtà. Proprio com'è. Non lo stiamo combattendo bene. Aspettate che mi concentro un po'. Facciamo un po' di botte e risposta. Non hai fatto una gran figura, nemico. Te lo dico proprio così. Vabbè, praticamente siamo arrivati al follow che dicevo prima. Speravo di metterci di più. Qua ci sono due nemici. Li eliminiamo. Giusto perché è divertente combatterli, eh? Non per altro. E anche perché è facile, ovviamente. Sono abbastanza scemotti loro. Quaggiù invece è più ostica. Io quei nemici, la sapete, non li reggo. Bisogna batterne almeno due insieme. Non un gran che... Non un gran che. In realtà dopo otterremo l'ingizzo del fumo del sangue. Quando avremo ucciso Ginichiro. Quindi, se non sbaglio. Quindi quasi quasi li uccido quando li ottengo. Quando ottengo quella cosa là. Va bene ragazzi. Io per questo video mi fermo qua. Siamo sotto i 20 minuti. Così recuperiamo anche dal video. Troppo corto, troppo lungo dell'altra volta. Di là c'è un mini boss. E poi abbiamo il boss. Io spero di fare entrambe le cose nel prossimo video. E magari riusciamo anche a consumare i pallosissimi dialoghi. Di curo e le di Emma. Raga, grazie per avermi seguito al solito. Buon proseguimento. Ciao.